Vittoria Guazzini, adesso dopo tutta questa cerimonia protocollare sei più stanca che al termine della crono? Eh sì, diciamo che però dai, una stanchezza positiva ora farò un po' di rulli per sciogliere perché domani c'è anche la gara su strada quindi vediamo cosa faremo ma nel frattempo mi godo questa maglia Quali emozioni si provano? Ma guarda, devo dire che, allora, correre in Italia è sempre una bella emozione perché c'era veramente tanto tipo in più, avevo qui la mia famiglia e volevo tanto vincere quindi un mix di emozioni che insomma ci voleva proprio Bene, senti, adesso andrai a fare un sopraluogo per la gara in linea Sì, non ho ancora visto il percorso quindi una sgambatina sul percorso della strada ci sta Bene, in bocca al lupo Grazie, grazie